incontri con i nostri esperti che ci aiuteranno a vivere al meglio e senza particolari pensieri o preoccupazioni le nostre uscite in bici, specialmente quelle un po' più impegnative. Questa voglia di condividere queste informazioni è nata dal fatto che recentemente abbiamo fatto un'intervista su un campione di circa 2000 ciclisti, 2000 persone che quindi pedalano per passione, certamente non a livelli professionistici ovviamente e la cosa interessante che è emersa da questa indagine è stato che i tre principali aspetti che destano maggiore preoccupazione nei ciclomatori concernono la nutrizione, cioè come alimentarsi in bicicletta, la preparazione atletica, l'aspetto psicologico anche della bicicletta e poi problematiche che attengono alla corretta posizione in sella. Quindi prima di incontrare il nostro ospite di questa sera vi voglio far vedere una piccola chicca che riguarda la nostra produzione, approfittando dell'ora un po' inconsueta. Quindi adesso muovo il cavalletto, spero di non suicidarmi in diretta, farebbe probabilmente molto share. Allora questo qui spero che riusciate a vederlo, è una sorta di tavolo che è un piano di riscontro. Questo qui che vedete è un telaio in acciaio, un telaio borea che è appena stato saldato, anzi appuntato. Il piano di riscontro serve a verificare l'allineamento del telaio durante la fase di costruzione, in questo caso di saldatura, ma lo facciamo anche con i telai in carbonio. Che cosa vuol dire l'allineamento? Controllare che il triangolo posteriore e il triangolo anteriore siano perfettamente allineati, questo come facile intuire sarà importante poi quando andremo al montaggio e chiaramente la bicicletta dovrà essere perfettamente allineato il telaio proprio per garantire il miglior funzionamento della linea catena, del corretto posizionamento delle ruote eccetera. E questi sono dei piccolissimi strumenti, ora mi dispiace che forse è pessima la visione, che servono proprio quando il telaio è bloccato su questa macchina a verificare appunto che i tubi siano perfettamente allineati. Ora mi dispiace che si vede più la sottoscritta e non ecco qua più o meno. Ok, allora detto questo, approfittando del telaio qui per Renzo, un amico italo-tedesco, adesso direi che è il momento di parlare di alimentazione in bici, vi introduco l'ospite di questa sera, il dottor Marco Trovato che ci fa il piacere di tenerci a compagnia e di darci le informazioni delle quali abbiamo bisogno. Marco è uno specialista in nutrizione sportiva, tra l'altro presta le sue conoscenze anche come educatore alimentare presso la Federazione Italiana Tennis e presso una squadra di basket femminile che milita in serie A2 la Virtus Serene di Ragusa. Dunque, Marco, non so se sei in linea, per il momento non ti vedo, ci sei? Oh, ecco ti, ciao, buonasera, ciao. Mi hai fatto prendere un momento di panico. Sì, no, è il bello della diretta. Io già stavo pensando, che gli racconto a questi, mangiarsi due barrette, non lo so io. Mamma mia, sì, davvero. Come un po' succede in studio, c'è sempre quel panico da parte del ciclista che non sa mai cosa mangiare, il ciclista è uno sport davvero dispendioso al massimo. È vero, è vero. Volevo ringraziare per il graditissimo invito e spero che conoscenze aiutino la community a crescere, a crescere insieme a noi e a cercare di capire quando sia veramente importante la nutrizione, nello specifico, la nutrizione in questo caso sportiva fatta in maniera corretta per migliorare le nostre performance, ecco. No, ma guarda Marco, infatti hai perfettamente ragione, la volontà di questo incontro è anche quello di essere utile, concreto, quindi noi andremo poi a leggerti delle domande che ci sono arrivate in questi giorni dalla community e però veramente anche analizzando le domande precedenti che diciamo hanno dato le mosse a questa iniziativa, è impressionante il numero di persone che ha veramente tanti dubbi, tanti timori legati all'alimentazione, soprattutto quando si pensa di dover affrontare un'uscita impegnativa. Allora Marco, io direi questo, adesso andremo a leggere le domande che ci sono arrivate in questi giorni, però vorrei invitare gli amici che ci seguono adesso, prima di tutto a condividere la live e poi a stare in compagnia, a stare in nostra compagnia fino alla fine perché tu ci lascerai con una chicca, ovvero darai una formula magica, una formula segreta per mantenere massima l'energia per tutta la durata dell'uscita, quindi dovete stare con noi prima che io mi strozzi con l'auricolare. Allora, senti Marco, io direi, ah l'ultima cosa, scusami se ti interrompo di nuovo perché mi ero dimenticata, oltre alle domande che ci sono arrivate in questi giorni, chi ci segue e non sia timido faccia altre domande, siamo qui, anzi Marco è qui per rispondere a tutti, quindi benissimo accette tutte le domande che ci arriveranno in questa diretta, durante questa diretta. Detto questo, io andrei a leggere la prima domanda, se vedete un leggero strabismo di Venere perché le devo leggere su un computer alla mia destra. Allora, la prima domanda Marco è, quanto tempo prima e cosa mangiare prima di fare un'uscita? Cioè, quanto tempo prima e cosa mangiare prima di fare un'uscita? Bene, bene, questa è una domanda, diciamo, che è al top delle domande. La famosa domanda da un milione di dollari? Sì, una domanda da un milione di dollari però è, diciamo, sempre in cima alle FAQ, quindi alle frequentist che un po' si succedono durante le varie visite, ma perché è quello che vuole realmente sapere un ciclista, no? Immaginiamoci l'uscita come il momento più importante per il ciclista, no? Dopo la settimana, il mese di allenamento, lui vuole far vedere realmente anche a se stesso che cosa è capace di fare, no? Si è scommesso, si scommette, continua a sfidarsi con le sue ore, 6, 7, endurance a non finire. È lì, è proprio lì che bisogna giocare, è proprio lì che il gioco si fa, si fa duro. Perché il gioco si fa duro? Perché un'uscita è appunto il momento di dispendio maggiore che può avere lo sportivo. Cosa bisogna mangiare quindi prima di un'attività sportiva di questo tipo, in un'attività così dispendiosa? Beh, sicuramente bisogna mangiare dei carboidrati, quelli sono alla base di una nutrizione in ciclismo. La nutrizione per un ciclista non può che basarsi sui carboidrati, deve essere glucocentrica proprio. Quindi sì, le prime ore del mattino potrebbero essere appunto la chiave di inizio di questa giornata, in cui io consiglio sempre di mangiare degli zuccheri semplici uniti magari a dei grassi, ma non troppi, perché i grassi appesantiscono e non rendono appunto facile poi dopo la digestione in bici e quindi diciamo che bisognerebbe mangiare teoricamente delle fette biscottate con della marmellata e magari un filo di burro che rallenta l'assorbimento dello zucchero in modo tale da renderlo continuo e costante per tutte le prime fasi della pedalata. Quanto tempo prima? Bene, quanto tempo prima è davvero un domandone particolare, perché innanzitutto è una domanda molto soggettiva, ci sono soggetti che hanno una digestione molto veloce, ci sono soggetti che hanno una digestione molto lenta. Io di solito consiglio un'oretta e mezza prima, un'oretta prima, in modo tale da avere le giuste energie per affrontare appunto la giornata. Sicuramente le sole fette biscottate con la marmellata e il burro non aiutano per tutta la parte dell'uscita, aiuteranno per una prima parte. Io consiglio sempre di fare una buona cena, quindi la cena precedente all'uscita di farla più calica di carboidrati, in modo tale da fare un carico di glicogeno. Il glicogeno è in pratica le nostre piccole riserve di zucchero che si posano proprio sui muscoli e sul nostro fegato e ci rendono appunto facile poi l'uscita, perché quando finiscono le energie cominciamo a utilizzare quelle, ma quando finiscono quelle poi che cosa facciamo? Non possiamo per me farle finire, quindi ci sarà qualcosa che poi dobbiamo prendere durante, no? E quindi vediamo un po' quali sono le altre domande, magari c'è qualcuno che chiede qualcosa di simile. Intanto abbiamo risposto a questo. Sì, ora chiaramente io prima non l'ho precisato, ma insomma diciamo questo, che le domande o anzi le risposte saranno forzatamente generiche, perché poi insomma quando si parla di alimentazione, di nutrizione, l'aspetto soggettivo è fondamentale, quindi è chiaro che si daranno delle indicazioni, ecco poi ovviamente per entrare nello specifico bisognerebbe conoscerle e visitarle le persone, insomma ecco questo non l'avevo premesso, ma implicitamente. Allora adesso leggiamo la seconda domanda che non vedo più, eccola qua. Allora ci chiedono come bisogna alimentarsi in una giornata fredda? Bene, bene, queste sono delle belle domande, perché vedete un po' ragazzi, le condizioni climatiche sono realmente quel fattore aggiunto di difficoltà che ci rende l'uscita più facile, più difficile o comunque più o meno agevole. Quindi dipende poi ovviamente dal tipo di freddo, ok? Parliamo del freddo siciliano dove vivo io. Il problema non si pone. Cioè non è freddo. Se parliamo un po' del freddo dell'Alta Italia, allora lì davvero cominciamo a parlare di un freddo tosto. Cosa consiglio io? Io consiglio sicuramente di portare con sé sia delle bevande zuccherine, quindi arricchite con degli zuccheri, con delle maltodestrine, e sia la parte solida degli alimenti, quindi magari della frutta, magari dei piccoli tramezzini fatti in maniera molto semplice, con delle sostanze facilmente assorbibili, quindi parlo nello specifico magari di salumi, ma proprio pochissima roba, deve essere molto di carboidrati. Una fetta trasparente. Deve essere una fetta trasparente perché le proteine sono un po' più difficili da digerire e quindi potrebbero causare dei problemi di performance, proprio perché il sangue va a convogliarsi appunto a ridosso dello stomaco per l'assorbimento di queste sostanze e crea una simile precongestione, ecco se proprio vogliamo parlare in termini pratici, o comunque un indigesto, ecco, cosa che potrebbe appunto non farci avere un bel ricordo dell'uscita, ecco. Ecco, vedo Marco, nella mia ignoranza avrei pensato che le proteine si sarebbero rivelate utili in prospettiva di un'uscita lunga, invece mi stai dicendo? Assolutamente sicuramente non posso io mangiare un etto di prosciutto sulla bicicletta, questo è quello che voglio dire. Mano a mano che andiamo avanti con le ore di progresso, ci avviciniamo magari alle sei ore, sette ore, ora in cui magari ci avviciniamo verso quel muro dei duecento chilometri, eccetera, eccetera. Allora lì è importante magari lavorare, aver lavorato prima magari con degli spuntini fatti con cadenza 30-60, 30-60 minuti e magari finire alla fine con delle sostanze facilmente assorbibili come magari dei gel che ci permettono di fare quello sprint finale e di arrivare alla fine della nostra uscita in maniera tranquilla e serena, sempre un vircolettato perché comunque saremmo belli stanchi, io non mi immagino me stesso a fare un'uscita di otto ore, al massimo con tre ore. Io raramente nella mia carriera ciclistica da ciclo bubona, spassatemi il toscanismo veramente, ho raggiunto queste ore, le ho raggiunte a un lontano ricordo per fortuna, le lascio agli altri. Sì, ho diversi pazienti che fanno uscite molto lunghe di endurance, anche sette, otto ore, avevo tra l'altro due pazienti di Milano che adesso escono meno con la bici perché hanno trovato più di un lavoro e quindi materialmente lavorano tantissimo, non riescono più ad uscire, ma loro sono delle uscite al fine settimana da sette ore. Quindi capisci bene che è importante dover supportare, quindi sicuramente l'inverno, sicuramente il freddo rappresenta un muro, ma bisogna considerare molto anche le condizioni di umidità, perché sono le condizioni di umidità che ci fanno sudare parecchio. Faccio un esempio, anche se una giornata è fredda, ma è una giornata fredda e umida, se la giornata è fredda e umida, questo ci potrebbe comportare dei problemi in termini di elettroliti e quindi è importante anche vedere un po' quali sono le condizioni atmosferiche per poterci portare dietro con noi la giusta benzina, la giusta benzina e questo è solo un professionista che ti può aiutare, perché se vuoi andare ad alti livelli devi avere alti livelli dall'altro lato di professionisti come voi da un lato che ci date appunto. Si tende a lasciare un pochino meno al caso sotto tutti i profili, quando si vuole raggiungere magari certi risultati, sì assolutamente. Chi vuole il top bisogna andare sul top e quindi bisogna lavorare in maniera multidisciplinare. Allora, senti Marco, leggiamo un'altra domanda. Sì. Anche se questa qui mi faceva venire in mente, abbiamo parlato di giornata fredda, umidità, ecco il vento per esempio, io lo temo moltissimo, non so anche questo quanto può influire negativamente in termini di prestazione al di là? Assolutamente sì, può influire negativamente e ovviamente va supplementato appunto da un'alimentazione corretta, in questo caso dobbiamo aumentare leggermente il carico glucidico proprio perché dobbiamo vincere questa resistenza fornita appunto dal vento. Se abbiamo il vento a favore è un conto, ma se ce l'abbiamo contro è davvero pesante, perché comincia a creare questa inerzia, questa forma di attrito che ci permette difficilmente di raggiungere l'obiettivo, cioè aumenta ancora di più il fattore difficoltà e quindi bisogna essere supportati a sua volta da una corretta, diciamo da un corretto turbo, ecco chiamiamolo così. Io mi immagino un po' le maltodestrine come un valido alleato in questo caso. Ok, ok, perfetto. Comunque in bici il vento ce l'hai sempre contro, il gira gira ce l'hai sempre contro. Sì, sì, sì. Adesso ci rego l'altra domanda. E col caldo esce che non ti sudi, esci col freddo, c'è freddo e devi caricarti un po' più di grassi, un po' più di carboidrati e quindi voglio dire siamo sempre... In bicicletta non manca mai niente, ecco, di avverso. Allora, senti Marco, prossima domanda. Come nutrirsi prima di una gran fondo? Bella domanda, bella domanda perché vedi questa domanda Carasena abbraccia un po' tutto quello che è rappresentato dalla preparazione nutrizionale per un evento. Una gran fondo sicuramente non è una cosa che tu fai tre volte alla settimana. No. A gran fondo non è una cosa che tu fai spessissimo. A gran fondo è un evento, quindi è una cosa dove tu ti prepari per poterla fare, ti prepari fisicamente e ti devi preparare anche con la giusta alimentazione. Bisogna seguire un periodo di... lo chiamo un po' pre-gran fondo, ok? Quindi è un periodo di allenamento per gran fondo e un periodo che, diciamo, chiamiamolo proprio gran fondo. cioè magari giorni prima che... i tre giorni, tre, quattro giorni prima che, diciamo, precedono l'evento suddetto. Come si mangia? Si deve creare una sorta di curva dove dobbiamo raggiungere il massimo di carboidrati nella fase di allenamento. Una fase pre-allenamento dove dobbiamo cominciare a creare il giusto terreno, un terreno fertile per il corpo che deve cominciare a aumentare le proprie riserve. Dobbiamo creare delle vere e proprie mini supercompensazioni. Cos'è una supercompensazione? Detto in maniera molto veloce, quasi profana, è allargare i nostri depositi di glicogeno. Avere più glicogeno significa avere più possibilità di avere più riserve. questa cosa si fa cercando di caricare e scaricare il glucosio, nello specifico i carboidrati, durante dei periodi di alimentazione. Ora, detta così, sembra essere molto complicata, però poi in termini pratici diventa molto semplice. In sostanza cosa si fa? Si aumentano e si abbassano i carboidrati, si ciclizzano i carboidrati aumentandoli e abbassandoli ripetutamente sulla base dell'allenamento. Dopodiché una fase pre dove si fa un altro piccolo carico di carboidrati, dopodiché si arriverà alla gran fondo in perfetta forma e si potrà affrontare. Ovviamente l'alimentazione è importantissima all'interno di questa sfera, però è importante anche dire che non sempre la giusta benzina aiuta ad arrivare, tra virgolette, primi o comunque ad avere una performance da campioni, perché i campioni hanno quella performance in quanto hanno il talento. Quindi quella è una cosa che non si può acquisire, purtroppo con l'alimentazione o spesso sento alcuni miei pazienti che mi dicono, sì però Marco guarda io vorrei fare come tizio che ha il simpronio, però non ci arrivo. Eh sì, ok, il talento è una cosa che... Non c'è lo spunto! Voglio dire, non tutti nasciamo per fare il Giro d'Italia, ecco. No, no, assolutamente. Oppure immagino di fare il Giro d'Italia, ecco. Ti devo dire che, insomma, parlando con tante persone, come facciamo sempre per il nostro lavoro, come abbiamo fatto nell'occasione, insomma, di questa survey che abbiamo fatto di recente, insomma, molti sono consapevoli, tra virgolette, dei propri limiti, del fatto che si va in bici per passione, ecco, e quindi non è che hanno, si hanno delle velleità da campioni, la maggior parte direi, però comunque anche pur non avendo le velleità da campioni, ecco, sapere, avere qualche nozione in più che ti permetta quantomeno di ottimizzare, di non arrivare sfinito, insomma, fa comodo a tutti, no? No, senza dubbio, infatti la mia premessa era proprio questa. L'alimentazione è importantissima, però bisogna pensare sempre sulla base dei propri limiti, molti si spingono i propri limiti e vanno in overtraining, l' overtraining è una cosa brutta che non dovrebbe essere mai, diciamo, non dovrebbe mai far parte di uno sportivo, proprio perché uno sportivo deve conoscere i limiti del proprio organismo, se no si va, invece di fare una cosa che ti dà salute, te la toglie da questo punto di vista, quindi è importante, guarda, io ho letto oggi un articolo impressionante, c'era un maratoneta che per prepararsi una gara ha bevuto 15 litri d'acqua. Dio mio, e non è affogato? Ha pensato ed è morto, quindi è deceduto, quindi bisogna, purtroppo queste sono notizie che non per essere pessimisti, io sono un ottimista nato, però purtroppo la realtà dei fatti è che certe volte ti trovi davanti delle persone e bisogna sensibilizzare queste ad avere un giusto e corretto approccio allo sport e che questo sia sano. Assolutamente, assolutamente. Poi comunque anche questo aspetto della preparazione l'affronteremo e lo sviscereremo lunedì prossimo in un altro incontro con un personal trainer e ci dirà anche lui la sua su questo aspetto fondamentale. Ok Marco, senti, io leggerei un'altra domanda, se la vedo, nel frattempo vi ricordo che se avete domande anche in diretta scrivetele pure, mandatele pure e risponderà in diretta Marco adesso, me l'avete cancellata però eh? Me la ricordo io, buonasera, se posso, con che frequenza bisognerebbe mangiare solido o liquido? Ok, ok. Ok? Allora, diciamo che l'importante è l'alimentazione in maniera corretta. Cosa significa alimentazione in maniera corretta? Significa che qualsiasi cosa tu possa mangiare deve essere sempre supportata da un professionista che ti dica sì è giusto, no è sbagliato. Ti dico, vi dico questo a fronte di un problema molto importante che è rappresentato appunto dalle sostanze liquide. Le sostanze liquide, soprattutto il fai da te nelle bevande, liquide, zuccherine, è importante che sia supportata come minimo da una ricetta validata e certificata da professionisti, perché queste possono portare comunque a problemi gastrointestinali anche importanti. Certo. Ora vado sul core della domanda e rispondo un po' a chi è che ce l'ha posta. il solido e il liquido vanno alternati ovviamente sulla base della durata dell'uscita e sulla base della tipologia di clima che stiamo affrontando. Faccio un esempio. Stiamo facendo un'uscita in inverno, quindi un'uscita col freddo. Col freddo è importante mangiare magari più solido, per avere più possibilità che bruciando possiamo anche supportare il nostro organismo a produrre calore. Al contrario invece d'estate è più preferibile bere qualcosa di fresco per cercare di bilanciare la temperatura corporea che salirà per via del meccanismo endogeno di produzione di energia e di temperatura che salirà, proprio per questo motivo. Quindi bisogna supportare il nostro organismo sulla base di quelle che sono anche le condizioni atmosferiche. Solido e liquido vanno ad abbracciarsi in questo matrimonio di cibi proprio sulla base e personalizzandolo sulla base del clima e del tipo di uscita che noi stiamo facendo. Se stiamo facendo un'uscita breve, ok, ci possiamo portare anche il liquido perché comunque ci serve come sprint e possiamo avere anche dei buoni picchi di glicemia e questo ci può regalare delle buone prestazioni. Nelle uscite lunghe invece preferirei avere qualcosa di solido perché col solido riesco a mantenere magari anche più basso l'indice glicemico. Questo se parliamo di prodotti naturali, se poi parliamo di prodotti di sintesi o di malto destrine o di vitargo, chi che sia, comunque riusciamo ad ottenere il medesimo risultato. Però la supplementazione è bene che sia fatta sempre da un professionista. Sì, comunque ecco un'altra cosa a parlare. Hai fatto cenno al fatto che ci sia differenza giustamente nell'uscita tra l'estate e l'inverno l'importanza del fattore climatico. La mia impressione è che poi durante l'inverno, durante le uscite invernali, si percepisca anche meno la sete, la sensazione della sete, quindi c'è anche un pochino meno portati a bere. Assolutamente sì. Ricordiamoci sempre che appunto la sete è uno degli indicatori primari della disidratazione. La disidratazione avviene proprio perché stiamo perdendo fluidi o perché evaporano o perché li stiamo perdendo perché li utilizziamo per le nostre reazioni interne del corpo o perché semplicemente stiamo sudando. Quindi da questo punto di vista, in termini di elettroliti o di bevanda zuccherina o chi che sia, è importante calcolare sempre morto, guardare sempre morto il tasso di umidità che c'è. Ok. Se l'umidità è elevato, io so che suderò, forse sia la temperatura. Se io so che il tasso di umidità è un po' più basso, il clima è un po' più secco, posso giocarci un po' di più. Non so se è chiaro la cosa. E organizzarmi di conseguenza? Assolutamente sì. Ok Marco, grazie. Allora, io avevo visto un'altra domanda prima, però queste domande mi spariscono, non so come vanno velocissime, vanno velocissime. Eh ragazzi, non ce la faccio a leggerle così. Oh, eccola, eccola. Come alimentarsi uscendo al mattino? Diciamo dopo essersi alzato un'ora prima, l'uscita di solito dura dalle tre alle quattro ore. Qualcosa di simile l'avevi detto sulla prima domanda? Sì sì sì, abbiamo parzialmente risposto, abbiamo parzialmente risposto, però questa è ancora più specifica, vedi Sena, perché ci dici che diciamo dopo essersi alzati, quindi un'ora prima rispetto all'uscita, credo di aver capito bene, correggimi se sbaglio. Sì sì, faceva l'esempio di un'alimentazione, fa colazione diciamo un'oretta prima di fare prima. Guarda, io potrei anche paradossalmente approvare una colazione salata, magari a base di un pan carré, magari, e del prosciutto, con magari, sai, un filo di spalmabile giù che mi rallenta un po' quell'assorbimento degli zuccheri e mi permette di carburare abbastanza velocemente, di produrre quell'energia necessaria che mi serve per affrontare quelle prime, magari, sai, corretta e mezza di uscita, ma è uscita sempre di 3-4 ore, quindi è preferibile che magari entro i 60 minuti, ecco, si cerchi di mangiare. Oh, dimenticavo una cosa, che proprio poco fa, parlando di inverno e estate, mi sono dimenticato molto importante. Dicci, la dicci, la Marco, non te la tenere per te. Eh, no, no, non me ne voglio tenere, le voglio proprio, le voglio proprio dire tutte, mi voglio svendere, ecco, oggi mi voglio svendere. Bravo, bravo. Eh, quindi, allora, non mi rubate il mestiere, però, per favore, ragazzi, da casa, non mi preoccupare, non ti preoccupare, io non davvero, guardo, cioè, io sono una di quella che si alza dieci minuti prima e parte, figurati, però, questo fino a ieri. Esatto, allora, guarda, d'inverno magari riusciamo a tenere fino a un'oretta di attività, ma d'estate è preferibile cominciare a mangiare intorno alla mezz'ora, soprattutto se c'è molto caldo e molto umidità, quindi è bene cominciare l'alimentazione e la nutrizione in bici dai 30 ai 60 minuti a seconda delle condizioni climatiche. Ci batto molto su questa cosa perché si rischia di avere dei cari di performance anche importanti. Se si mangiano in 30-45 minuti, quando c'è caldo, riusciamo a supportare bene il nostro organismo e spingiamo tanto. Ma, guarda, questa cosa veramente, io, da, è veramente ignorante, anzi, a volte vado in bici con qualcuno perché mangio magari dopo poco che siamo partiti, ah, ma hai già fame, come dire, insomma, sempre la solita, no, che penso solo a mangiare. Vedi che facevo bene. Ma invece è importante, guarda che… No, a parte le battute, lo ignoravo questa cosa veramente, ecco, di dover accorciare anche i tempi degli spuntini, diciamo così, anche in base al fattore climatico, ecco. Il fattore climatico è molto importante in questo caso, quindi l'ingresso a 30 minuti di carboidrati permette una migliore, sicuramente, prestazione. Basti pensare semplicemente che con il caldo sprechiamo più energia rispetto che in condizioni ottimali, perché il caldo un po' ci blocca, ci ferma, ci fa produrre energia necessaria per cercare di bloccare quell'energia che invece viene prodotta dal clima in maniera spontanea. Basti pensare anche l'asfalto stesso che ha quel calore, batte il sole forte e quindi, mamma mia, è importante. Nelle ore tra le 11 e le 2 del mattino diventa complicato, veramente passato il mezzogiorno è un fuoco. Bisogna supportare bene il corpo proprio in quei momenti, cioè bisogna fare una scheduling nutrizionale molto, ma molto, ma molto accurata proprio per le uscite, in questi casi particolari. Io la faccio sempre e i miei pazienti, i miei atleti si trovano davvero alla grande. Cioè, quindi è importante, diciamo così, calibrare l'alimentazione anche in base allo stile di vita, nel senso che se io mi posso allenare soltanto durante la pausa pranzo, un conto è che lo faccio adesso, un conto è che lo faccio appunto in primavera o in estate. Assolutamente. Pure se posso andare in bici la mattina all'alba, insomma, sono diversi i momenti della giornata, poi dovranno andare a lavorare, eccetera, insomma, quindi ognuno di noi ha la propria storia, la propria realtà. Assolutamente sì Sena, ma anche perché consideriamo che tu hai fatto un esempio proprio calzante. Il discorso dello stile di vita è molto importante, soprattutto quando affrontiamo delle giornate molto impegnative, dove magari non abbiamo quello stop, io metto sempre davanti il classico dipendente, no? Classico dipendente, magari un dipendente di banca, un direttore di banca, che ha quelle giornate, quella agenda piena di incontri, dove poi ha quello spazietto minuscolo per poter mangiare, perché poi deve rientrare quella pausa pranzo proprio minima, minima, il minimo che è indispensabile per poter rientrare. Io ho diversi dipendenti di strutture, di aziende, di banca, eccetera, eccetera, tra i miei pazienti e vedo, è noto che c'è questo minimo comune multiplo. Lì è importante aiutarsi con un po' di integrazione, perché se no non ci si arriva. Detto ciò, vediamo l'altra faccia della medaglia. L'altra faccia della medaglia è l'agonista. L'agonista è una macchina effettivamente che lavora per quel tipo di attività e l'agonista ovviamente ha un altro tipo di muscolatura, un altro tipo di composizione corporea rispetto al dipendente, quindi avrà una benzina differente, totalmente differente, anche perché lui vive per quel tipo di attività e quel tipo di attività lo impegna mentalmente e fisicamente per tutta la giornata. Assolutamente. Che deve andare verso quell'indirizzo. Quindi anche in questo caso l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella differenza fra questi due, non agonista, nella posizione della dieta. La dieta va fatta appunto sulla persona, sullo stile di vita e sulla tipologia appunto di sport anche che fa l'alimentazione e disciplina specifico. Molte volte vedo ciclisti professionisti appunto che si allenano sia in bici che in palestra. Certo. Ma in palestra il lavoro che fai è totalmente diverso. Quindi anche la benzina sarà completamente differente. Deve essere adeguata ovviamente. Deve essere adeguata al tipo di lavoro che fai. Anche perché lì hai una finalità e un obiettivo che è quello di aumentare magari la tua muscolatura, aumentare magari la tua resistenza, aumentare magari la tua forza. Ok? Ci sono differenti. Se sbaglio, ci sarà anche una differenza nel metabolismo tra questi due soggetti. Più sarà alto il tuo metabolismo basale. Basta pensare e fare questa associazione. Un'automobile di grossa cilindrata ce la dobbiamo immaginare come un bodybuilder. Ok. Ok? Le classiche Mustang americane, no? Quelle 5.000 di cilindrata, 6.000 di cilindrata che... Te bevono quanto carri armati. Io vedo una Mustang e vedo Arnold Schwarzenegger, cioè immagino questo. E quindi facendo questa associazione riesce semplice capire che una macchina di grossa cilindrata avrà un consumo differente rispetto che magari al classico pandino o alla classica smart, no? E quindi è tutta lì la differenza. È lì perché è lì che risiede appunto il metabolismo. È lì che risiedono le nostre centrali elettriche. Le nostre centrali elettriche ci permettono appunto di avere un tot di energia disponibile. Ma ve la dobbiamo dare? Questa energia attraverso la alimentazione. E il tipo di dieta differisce appunto sulla base anche della muscolatura e dell'attività da dispendio. Quella a riposo sicuramente è dovuta alla muscolatura. Consumiamo di più a riposo se abbiamo una muscolatura più elevata. Consumiamo di meno se abbiamo meno muscolatura. Comunque Marco io ho capito perché non dimagrisco andando in bici, perché mi alleno come un panda e mangio come una mustang. Ora non ci fai pensare, ho capito. La rubo, vedi, vedi che te la rubo. No, guarda, veramente, ma non sono sola, eh, obiettivamente. Senti Marco, allora vediamo se c'è un'altra domanda e le domande si fanno aspettare dallo schermo. La vedo piccola, non la leggo, ragazzi. Vabbè, nel frattempo vi ricordo questo. Ovviamente condividete la live, ragazzi, perché bisogna diffondere il verbo tra i ciclo appassionati. E poi vi ricordo, è stato ancora qualche altro minuto con noi, perché Marco ci deve ancora rivelare la sua formula magica per, la sua formula segreta, via magica è troppo, ehm, per conservare intatte le energie durante tutta l'uscita. Oh, la, 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 allora, eh, William, anche sulle uscite corte, più o meno sotto i 50 barra 60 chilometri, è necessario alimentarsi? Anche nelle uscite corte, sotto i 50, 60 chilometri. Ma questa qua è una bella domanda, vedi, perché 50, 60 chilometri, Sena, saremo su quante ore di attività, più o meno, saremo sulle... Ah, beh, se ti base su me, guarda, ti potrei dire quattro ore, diciamo, un ciclamatore serio, un paio d'ore, dai, un paio d'ore. Due, tre ore, due, tre ore. Allora, guarda sulle due, tre ore, caro William, io, 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 io qualcosa la prenderei intorno, intorno all'ora e mezza, sì, questo senza ombra di dubbio, eh, dipende molto però dal tuo, dal tuo, dal tuo metabolismo, quindi, ehm, consiglio sempre magari della frutta, ecco, la frutta potrebbe essere sufficiente a dover, a dover supportare un'uscita del genere. Ehm, queste, queste tipologie di, ehm, di prove vanno effettuate però esclusivamente in allenamento, caro, eh, caro William, perché, eh, io diffiderei da fare dei tentativi magari in una sessione di gara o comunque una sessione minimo, un minimo ufficiale, ecco, eh, quindi magari quando ti alleni lo provi e vedi un po' come, come va, io metterei della frutta, della frutta secondo me è sufficiente per un'uscita di 50-60 km, ecco. Ok, quindi la classica banana che si porta dietro, insomma. Sì, 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 la classica banana va bene. Senti, eh, Marco, ti leggo questa, eh, Franco, nel caso di uscite di più giorni consecutivi, come alimentarsi la sera per reintegrare al meglio per il giorno successivo? Bene, 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 bene. Allora, sicuramente è importante andare a supportare il corpo con dei carboidrati. Perché? Perché abbiamo concluso una giornata impegnativa, abbiamo fatto un'uscita pazzesca e arriviamo stravorti, dobbiamo ricaricare le energie, quindi appena finisce l'uscita mangiare subito, quasi immediatamente magari della frutta, qualcosa che sia ad alto indice glicemico, ok, degli snack magari zuccherini, non preferibilmente non industriali, ma qualcosa che ci siamo preparati da noi, ecco. O della frutta, semplicemente della frutta potrebbe andare benissimo, della mela verde, la mela verde è uno dei frutti a più alto indice glicemico che ci sono in circolazione, quindi questo potrebbe ricaricare. Questi frutti di cui io sto parlando vanno presi sempre dopo e non prima. Perché non prima? Perché prima potrebbero dare quel classico giochetto che fa la glicemia con l'insulina, no? E quindi ti sequestra troppo zucchero e vai giù di performance, ok? Perché hai un picco subito, però scendi giù poi altrettanto velocemente. Un'altra cosa che potresti utilizzare magari è del miele, veicolato magari da delle fette biscottate o da del pan carré, ok? Lo metti lì, lo mangi e hai un po' recuperato le energie. Successivamente io farei sicuramente un pasto a base di carboidrati e proteine in modo tale da ricaricare completamente l'energia e andare a supportare anche il muscolo con i corretti amminoacidi. Prenderei anche dei BCAA, magari post allenamento per cercare di supportare post sessione, scusami, in modo tale da supportare il muscolo prontamente per renderlo diciamo abbastanza reattivo nell'uscita dell'indomani. Certo, anche perché qui si sta parlando di un endurance spinto nel senso di più giorni. è bella tosta. Certo, assolutamente. Grazie. Senti Marco, te ne leggo un'altra. Sì. Allora, ogni quanto mangiare, questo un po' però l'avevamo già, gli avevi già un po' risposto diciamo. Ogni quanto mangiare, che cosa però? Il contesto generale. Ogni quanto tempo, ogni quanto tempo mangiare. Lui dice ogni quanto mangiare. Ne abbiamo parlato già prima, rispondiamo di nuovo qualora l'abbia persa, forse si è collegata dopo. Si è collegato o collegata dopo. Sì, sì, sì. No, è Nicola, è un uomo. 30-60 minuti a seconda che si parli di caldo o di freddo. Nel caso del caldo 30-45 minuti bisogna mangiare sotto l'ora, invece ci possiamo mantenere sull'ora quando parliamo di un clima freddo-mite. Ok. Ti leggo questa. Nello specifico, in uscite molto lunghe, di oltre 6-7 ore, quali alimenti proteici è preferibile mangiare e quanto spesso rispetto ai carboidrati? Allora, scusami, mi sono perso la prima parte della domanda. Allora, Stefano ci chiede. Nello specifico, in uscite molto lunghe, di oltre 6-7 ore, quali alimenti proteici è preferibile mangiare e quanto spesso rispetto ai carboidrati? E qui dobbiamo fare, qui si esce fuori dal consiglio e si entra proprio all'interno di una vera e propria visita nazionale. Perché ti spiego, caro Stefano, è importante andare a calibrare bene l'apporto proteico sulla base della persona, non posso dirtelo questa cosa qua, perché non conosco gli aspetti del tuo corpo. Morendomi immaginare magari un soggetto ideale che pesa sui 65 kg ed è alto, magari un metro e settanta, potrei dirti di prendere magari, come ho detto prima, dei tramezzini, quindi accompagnati da quel filo di prosciutto che va ripetuto. Magari potresti fare la prima ora il tramezzino, poi dopo fai la frutta nella seconda ora, nella terza ora magari mi ripeti il tramezzino, ecco questo potrebbe essere il giusto alternarsi delle proteine, quindi magari una volta ogni due ore, ogni tre ore, in modo tale da fargli percorrere completamente il ciclo digestivo e a quel punto risupportare di nuovo, evitando magari di sovraccaricare il corpo di proteine che altresì potrebbero causare invece una perdita di performance. Ok, allora vediamo se c'è qualche altra domanda, allora, Anna, Anna ci domanda, quanto tempo, quanto tempo, scusami eh non ci leggo scusate, quanto tempo prima dell'uscita mangiare e cosa? Bene abbiamo già risposto a questa domanda, quindi ripeto. Però siccome ce la fa una donna e gli deve rispondere un'altra volta, perché io sono donne in bici e insomma. La salutiamo pure. Beh, dicevamo prima appunto un'ora, un'era e mezza prima sicuramente è preferibile mangiare qualcosa a base di carboidrati, semplici e composti. Ok, perfetto. Allora vediamo se c'è qualcos'altro, adesso non leggo, va bene. Allora, a parte che vedo che insomma siamo andati già anche un po' oltre la mezz'oretta che ce l'avamo proposti, colgo l'occasione per, adesso quindi dovrai assolutamente rivelarci il segreto per mantenere elevata la prestazione e l'energia durante tutta l'uscita. Prima però voglio ricordare le persone che ci seguono che lunedì, credo sia lunedì, comunque l'otto novembre, faremo un altro incontro sempre in diretta, questa volta con un personal trainer, mental coach, mentre invece il 12 novembre, che non so quando sia, sarà immagino tipo giovedì, ci incontreremo, faremo un'altra live con un biomeccanico, quindi seguiteci e condividete. Ah, e un'altra cosa, se avete domande da fare a questi due esperti che ci faranno compagnia, ponetegliele, andate sul nostro sito www.daccordricycles.com slash chiacchierata, lì si aprirà un robo, un banner, non lo so come li chiamano quelli che si intendono dell'internet, e lì potete fare, potete formulare e scrivere la vostra domanda, cioè la domanda che volete fare a questi due esperti. Detto questo Marco ti ridò la parola, rivelasci la tua formula segreta, dacci questa perla. Sei sicura che la vuoi saperemo, puoi non te ne pentire. Io ho già scoperto una marea di roba stasera, insomma, ecco, per cui. Allora, no, perché sennò ti faccio portare troppe robe da presto con la bicicletta, come fai? Lo sai che prima l'ho pensato, non l'ho detto perché mi sembrava proprio di fare la figura, insomma, proprio miserina, mi ho detto cavoli, quando hai risposto al ragazzo sei, sette ore, ho detto quanti tramezzini mi devo mettere nelle tasche, ci vuole lo zaino. Infatti, 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 infatti. Allora, innanzitutto che tutto va studiato sulla base di quello che possiamo, appunto, caricare in bici. Certo. Vi do una lista di cose indispensabili che dovete avere con voi. Ok. Non potete assolutamente fare a meno. Quindi, prendete no. Sembrano ovvie, ma non lo sono. Acqua, semplice, separata da qualsiasi tipo di integratore, elettrolita, mattodestina, che chi che sia. Dovete avere poi una seconda borraccia con o elettroliti o elettroliti e eventualmente la bevanda zuccherina. Bisogna avere delle barrette energetiche con noi, bisogna avere dei gellini con noi, ma bisogna avere soprattutto la frutta e qualche tramezzino, come dicevamo. Quindi, non significa portarsi 4-5 chili di roba. Significa portarsi della roba in maniera intelligente, in maniera specifica, sulla base di quella che è la nostra uscita. Studiate prima il clima di uscire, prima di uscire studiate sempre il clima, vedete le previsioni cosa dicono, e sulla base di quello componete il vostro, diciamo, porta mangiare con voi, porta cibo, in modo tale da avere tutto pronto per l'uscita. E in questo caso bisogna portare, ripetiamo di nuovo, acqua, sali minerali, importantissimi, soprattutto se è un'uscita con il caldo. Molto, ma molto fondamentale. Tutte queste bevande preferibilmente fresche, ok? Che poi fresche non rimangono, perché ovviamente lo sappiamo. Ci sono anche le borracce termiche, perfettamente. Qualche ora ce la fanno. Per quanto puoi fare, però, quando fai quelle classiche uscite di 6-7 ore. Mi immagino quell'acqua alla fine. Comunque, i tramezzini importantissimi da mangiare magari nelle prime fasi, in modo tale che si mantengano bene, soprattutto se c'è caldo. E niente, successivamente i gelini da utilizzare nelle ultime fasi dell'uscita, in modo tale da dare al corpo quei carboidrati necessari. Ah, una cosa importante, questi gelini devono essere di due tipi. Uno al rilascio rapido e l'altro al rilascio lento. Perché? Quello al rilascio lento lo possiamo utilizzare nelle prime fasi, ok? Di, magari c'è una salita, tu prevedi che hai una salita e allora ti prendi quella lento rilascio in modo tale che ti permette di fare la salita in maniera ottimale. Quelli a rapido rilascio per ricaricare le energie a fine, quasi a fine dell'uscita e permettere di arrivare alla conclusione del giro. Lo sprint finale. Marco, quali sono gli ingredienti dei gel a rilascio rapido piuttosto che gli altri rilascio prolungato? Dipende dalle ramificazioni delle martotestrine. Quelle più ramificate sono più difficili da digerire e quindi sono a lento rilascio. Quelle invece meno ramificate sono a rapido rilascio. Queste cose qua poi magari ne parliamo in una seconda sessione e ci facciamo proprio... Volentieri, volentieri, perché sennò si parla genericamente di ramificati e si fa tutto un gran calderone, assolutamente. Alla base ci sono acqua e gel e appunto le martotestrine e zuccheri. Ok Marco, grazie per averci dato questa lista degli indispensabili da portarci dietro per le nostre uscite impegnative. Io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, veramente. È stato un piacere parlare con te. Mi farà piacere se ci troveremo ancora, perché qui si risponde a una domanda e se ne aprono altre dieci, veramente. Bellissimo, bellissimo. Io ringrazio voi per l'ingraditissimo invito, davvero. È stato un piacere Marco. Vi ricordo a tutti quelli che ci seguono, andate su daccordi cycles slash chiacchierata, fate le vostre domande per personal trainer barra mental coach e biomeccanico. Vi risponderemo l'8 novembre e il 12 novembre. Grazie a tutti, grazie di nuovo Marco, a presto. Grazie a voi, e una buona serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao.